Tutto è pronto per la tappa friulana del Giro d'Italia 2022, la numero 19 da 178 chilometri. L'attesa nei paesi protagonisti del passaggio dei corridori è spasmodica. Il Rosa fa da padrone nei centri abitati e gli appassionati sono pronti ad accaparrarsi un posto in prima fila per assistere al passaggio dei corridori. Oggi a Treviso, dopo la fuga involata, ha trionfato il belga Draide Bont, che ha beffato di poco Edoardo Affini, mentre la Maglia Rosa è rimasta addosso a Carapaz. Domani si attendono scintille con la speranza che possano dire la loro i due atleti di casa, De Marchi e Cimolai. Lo start ufficiale in una Marano-Lagunare agghindata a festa è previsto per le 12 e 10. Poi la risalita dei ciclisti da sud verso nord, passando per Muzzana, Lestizza, Basiliano, Fagagna, Buia, Tarcento, Villanova delle Grotte, lo sconfinamento in Slovenia dal passo di Tanamea, la scalata inedita al Kolovrat da Caporetto con il rientro in Italia per il passo Solarie, dove ci sarà la festa alpina, quindi la discesa dalle valli del Natisone verso Cividale e l'ascesa al santuario di Castelmonte verso il traguardo finale con arrivo previsto verso le ore 17. Un impegno organizzativo significativo per polizia stradale, protezione civile, alpini, motostaffette e polizia locale dei vari comuni interessati, con inevitabili ripercussioni alla circolazione stradale. Se la salita a Castelmonte è già blindata da oggi, domani le strade percorse dai Girini saranno chiuse due ore e mezza prima del passaggio di tappa, salvo i due snodi principali della statale 14 Triestina a Muzzana e della statale 13 Pontebana a Basiliano e a Buia, che per deroga verranno chiuse solamente mezz'ora prima.